Sì? Salite, salite! Veloci! Mamma mia, che faccia! Ma allora è proprio vero che sono i guai? No, no, tutto è sotto controllo. Ok, dai, è una vera catastrofe. Venite, ho bisogno di aiuto. Andiamo in cucina. Oddio, ma è davvero un disastro! E queste sarebbero le tue fettuccine e i funghi? La prof ha detto un piatto regionale, non un disastro nazionale. Ho scolato le fettuccine, ma sono ancora troppo dure. E i funghi sono bruciati. Non so come fare. Ma proprio oggi mia mamma doveva uscire fino alle otto. Allora, prima di tutto dobbiamo rimettere in pentola queste. Almeno altri funghi ci sono? Sì, quelli sì, credo. Sì, eccoli. Meno male. Allora, io lavo un po' questa padella e tu intanto tagli questi funghi. Ok, Paolo? Il problema è anche la panna. Sulla ricetta c'è scritto panna liquida, ma ho dimenticato di comprarla. Come facciamo? Sei veramente un disastro, Paolo. Comunque secondo me anche il latte va bene. Questo ce l'hai, spero. Sì, eccolo. Ma il latte con i funghi? Paolo, vuoi il nostro aiuto o preferisci continuare a dare a fuoco alla cucina? No, no, no. Faccio come dici. Sono sicuro che domani il mio piatto piacerà a tutti. Hai capito? Il suo piatto. Ma vai! Il mio piatto. Il mio piatto. Il mio piatto.